Parola del giorno. Sabato 6 luglio 2024. Santa Maria Goretti, Vergine e Martire. Dal libro del profeta Amos. Così dice il Signore. In quel giorno rialzerò la capanna di Davide. Chi è cadente, ne riparerò le brecce, ne rialzerò le rovine. La ricostruirò come ai tempi antichi, perché conquistino il resto di Edom. E tutte le nazioni, sulle quali è stato invocato il mio nome, oracolo del Signore, che farà tutto questo. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, in cui Chiara si incontrerà con chi miete, e chi pigia l'uva con chi getta il seme. I monti stileranno il vino nuovo, e le colline si scioglieranno. Muterò le sorti del mio popolo Israele. Ricostruiranno le città devastate, e vi abiteranno. Pianteranno vigne e ne berranno il vino. Coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto. Li pianterò nella loro terra. E non saranno mai divelti da quel suolo, che io ho dato loro. Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo, si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero, Perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano? E Gesù disse loro, Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro, ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, e allora digiuneranno. Nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, perché il rattoppo porta via qualcosa dal vestito e lo strappo diventa peggiore. Ne si versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti si spaccano gli otri e il vino si spande e gli otri vanno perduti. Ma si versa vino nuovo in otri nuovi, e così l'uno e gli altri si conservano. Oggi, 6 luglio, si venera Santa Maria Goretti, Vergine e Martire. Preghiera a Santa Maria Goretti, Vergine e Martire, O Santa Maria Goretti, che confortata dalla Divina Grazia, a soli 12 anni, non dubitasti di versare il sangue e di sacrificare la stessa vita in difesa della tua purezza virginale. De, volgi lo sguardo alla misera umanità tanto deviata dal sentiero dell'eterna salute. Insegna a tutti ma specialmente alla gioventù, con quanto coraggio e con quale prontezza si debba tutto sacrificare per amore di Gesù, anziché offenderlo e macchiare l'anima propria con il peccato. Ottienici poi dal Signore vittoria nelle tentazioni, conforto nei dolori della presente vita, e la grazia che qui prostrati ti domandiamo, chiedasi la grazia, e fa che un giorno possiamo godere vicino a te le glorie e imperiture del cielo. Amen. Santa Maria Goretti, vergine e martire Santa Maria Goretti, nata il 16 ottobre 1890 e morta il 6 luglio 1902, è venerata come martire della purezza nella Chiesa Cattolica. La sua breve vita fu segnata da uno straordinario episodio. A soli undici anni, mentre difendeva la sua castità, fu accoltellata da Alessandro Serenelli, un giovane che le aveva rivolto delle avance sessuali. Maria Goretti morì il giorno seguente, dopo aver perdonato il suo aggressore. Questo gesto di perdono ebbe un profondo impatto su Serenelli, che, dopo anni di carcere, si convertì e divenne un laico penitente. La santità di Maria Goretti fu riconosciuta dalla Chiesa e fu canonizzata nel 1950 da Papa Pio XII. La sua figura ispira ancora oggi fedeli in tutto il mondo per il suo esempio di purezza, fede e capacità di perdonare. La sua figura ispira ancora oggi fedeli in tutto il mondo.